Torna il Brodetto Fest di Fano! L'11, 12 e 13 settembre il lungomare si accende con lo spettacolo dei cooking show di Ernesto Lombardo, Cristina Bauerman, Max Mariola e Giorgione. L'approfondimento con i talk show di Federico Quaranta, il divertimento del Brodetto and Kids e Novità 2020, un ristorante diffuso in tutta la città. Info su brodettofest.it